Un'intera squadra di campioni che muore in un incidente aereo come il grande Torino a Superga. La notizia è che il locomotive Yaroslav, il Magic Team di Hockey su ghiaccio, era scomparso e arrivata mentre si stava tenendo il primo match di campionato a Ufa. I giocatori hanno chiesto di non rientrare in campo e con il pubblico, in un'atmosfera di grande commozione, hanno osservato un minuto di silenzio. Faremo tutto il possibile perché l'alto livello dell'hockey di Yaroslav continua a vivere, ha detto Aleksandr Medvedev, presidente della Continental Hockey League. Ora dobbiamo fare tutto il necessario per rendere adeguatamente onore alla loro memoria e naturalmente sostenere le famiglie. La federazione Hockey su ghiaccio farà tutto ciò che è in suo potere come è giusto che sia, ha dichiarato il presidente Vladislav Tretiak. Nella squadra giocavano diversi campioni del mondo stranieri, dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia, Lettonia, allenati dal canadese Brad McCrimmon. La tragedia ha portato le autorità sportive a rinviare il campionato. Davanti alla casa del locomotive, il palazzo del ghiaccio di Yaroslav, molti tifosi portano fiori per ricordare i loro beniamini.